ma qui c'è scritto diario segreto di Dani non aprire lupetti tra le mie mani il diario segreto di Dani non ci credo cosa a Matti gli puzzano i piedi l'altro giorno odoravano di formaggio scaduto ma com'è possibile dici che è simpatico e Ninna dimmi qualcosa anche tu non siamo più amiche perfetto non c'è nessuno adesso devo nasconderlo la cucaraccia la cucaraccia e pulisco i padimont la cucaraccia e pulisco tutto quanto cos'è questo? non è un cuscino? è tutto veloce ma cos'è questa cosa? non l'ho mai vista in casa qui c'è un lucchetto quindi forse c'è la chiave forse è lì dove era il diario no qui no ho trovato delle chiavi non ci sto credendo ma non capisco che cos'è magari i vecchi proprietari di questa casa avevano un libro segreto vediamo ma qui c'è scritto diario segreto di Dani non aprire lupetti oh tra le mie mani il diario segreto di Dani un momento però Dani si arrabbierà tantissimo se dovessi leggerlo ma adesso è uscita di casa quindi se lo rimetto a posto non lo saprà mai che ne dite? leggiamo qualche segreto nascosto di Dani? giusto qualcuno e poi basta quanto ha scritto caro diario oggi devo svelarti un segreto che solo tu puoi sapere oh questo si che è scottante ero in bagno mentre facevo i balli di tiktok nel bagno Dani ma perché li fai nel bagno? e sono caduta è caduta mentre faceva i balli di tiktok e un signore mi ha vista dalla finestra oh 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 non ci sto credendo un signore l'ha vista mentre è caduta in bagno no no devo assolutamente leggere un altro ogni volta che qualcuno dice australopiteco io scoppio a ridere ma chi è che dice australopiteco? non lo so perché ma è troppo divertente beh in effetti è divertente ma è troppo strano che Dani ride quando qualcuno dice australopiteco secondo me è una cavolata non può ridere ad australopiteco quindi voglio vedere se è vero la chiamerò al telefono e mi inventerò qualcosa per dire australopiteco squilla ok speriamo che risponda dobi eh ciao amore che stai facendo? niente sto facendo le solite cose da domani no non ti posso dire cosa sto facendo ok i soliti servizi in giro eh sì vero mi hai scoperto ti ho chiamata perché è successa una cosa stranissima è venuto un corriere? e mi ha detto che era di una nazionalità strana davvero? e di che nazionalità? ha detto che era un australopiteco cosa ti fa ridere Dani? era un australopiteco ok era solo questo che volevo dirti ciao non ci credo non ci credo non ci posso assolutamente gridere quello che è scritto sul diario è tutto vero davvero non pensavo ci fossero cose così divertenti non posso tenerle tutte per me devo farlo vedere assolutamente a matti Robby è arrivato il momento del libro degli iscritti sì il libro in cui entra solamente chi si iscrive al nostro canale e attiva la campanellina Dani vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi oh questo Dani dai Pietro F ciao Pietro se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina chi è a quest'ora? ma chi è? ma chi è il corriere? a quest'ora io non aspetto nessuno con calma un attimo un attimo mamma mia tutta sta fretta sì dica Matti Robby Matti sei il corriere? quale corriere? eh anzi sì sono un corriere di ottime notizie eh per quale motivo hai un cuore peloso in mano? eh fammi entrare io non ti spiego va bene non è in casa? eh no Nina non è in casa perché? eh perfetto perché ho tra le mani il diario segreto di Dani aspetta ma quindi non è un cuore? cioè se io lo metto qua hanno fatto non lo so magari sì ma qui dentro ci sono i segreti di Dani e io l'ho già aperto davvero? che affligo e che cosa c'entro io con questo? ci sono segreti troppo divertenti non potevo non condividerli con te cioè ma tipo quelle cose imbarazzantissime che uno scrive che non vuole che ne sappia nessuno 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 ho già scoperto che se si dice australopiteco a Dani lei scoppia in ridere ma che senso ha questa cosa? non lo so ma ho provato e ha funzionato sì non ci posso credere lo voglio fare anch'io quando viene Dani? quando viene Dani a casa nostra? voglio dire australopiteco e lei si mette a ridere ok ma adesso andiamo avanti a leggere gli altri segreti va bene però mettiamoci comodi vieni non so se siamo pronti beh ti dico una cosa intanto giriamo la prossima pagina e vediamo che c'è scritto ok oggi ho bruciato il pollo ma ho detto a Robby che era una nuova ricetta per fortuna non si è accorto di nulla che ridere ma 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 ti ma scusa mi c'è te hai mangiato il pollo bruciato e non ti sei accorto di niente? io lo dicevo che c'era qualcosa che non andava era troppo nero Dani ha detto no questa è una gratinatura al nero di seppia si come no già ti ha fatto mangiare ti ha fatto mangiare il petto di pollo bruciato che fa anche male no vabbè non ci posso credere e mi ha mentito quando la vedo le chiederò di rifarlo aspetta fammi leggere la prossima pagina però voglio leggere la prossima pagina eh questa è strana odio le melanzane le melanzane sono nere ciotte cattive non possono essere come la nutella io amo la nutella ieri ho finito tutto il barattolo per caso ti sei ritrovato con un barattolo finito? quando vedo Dani quando la vedo devo capire tutte quante queste cose perché lei mi mente dice che no l'avevo finito io il barattolo ma io non l'avevo mangiato il barattolo io non l'avevo mangiato fammi pensare cioè tu praticamente ti sei mangiato il petto di pollo bruciato poi magari volevi anche prendere la nutella e la nutella non c'era non c'era mamma mia vabbè però dai questi segreti sono troppo divertenti hanno suonato alla porta o sbaglio? eh sei sicuro? oh ora si l'ho sentito anch'io eh andiamo ciao ehi ragazze ciao benvenuti a casa sua si è casa mia eh Nina Nina ci hanno aperto Roby ma tu cosa ci fai qui? ma questa è casa mia eh e tu tu non dovresti essere a casa nostra eh si dai mi nascondi sono venuto qui a giocare alla playstation 6 si alla playstation di playstation 6 giusto? 5 6 4 non lo so eh a computer si Nina non ti sembrano un po' strani? si anche perché non esiste la playstation 6 eh ci state prendendo in giro vabbè eh entriamo noi siamo stanchissime Matti ora stai a guardare ok ma il diario eh dove lo tengo? ho paura che lo veda no tu stai così nessuno si accorgerà di nulla ok va bene eh Dani dimmi Roby sai io e Matti avevamo un po' di fame vero Matti? si esatto famissima eh pensavamo che magari potevi ripetere quella tua nuova ricetta com'era? ah aspetta il petto di pollo gratinato al nero di seppia petto di pollo al nero di seppia? no non sembra buona come ricetta no Dani mi ha raccontato Roby che tu fai quella ricetta giusto? quindi dovresti peperarci l'ho mangiata proprio una settimana scorsa mio caro Matti eh già eh sì però adesso non è il momento di mangiare è ancora presto sì sì sono le nove di mattina no 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 va bene ah eh perché magari Ninna hai delle melanzane per caso a casa? no Roby perché mi chiedi se ho delle melanzane? è il piatto preferito di Dani in realtà sì è il mio piatto preferito però tranquilla non ce le hai a casa possiamo anche farne a meno ah ok anche perché io non adoro le melanzane perfetto Matti Matti se la sta cavando benino ma io direi di andare di lì e scoprire altri segreti oh sì ci sto dai Matti prendi il diario eccolo eccolo allora dove eravamo rimasti? eravamo rimasti alle melanzane però non era tanto divertente come cosa noi gli abbiamo detto australupiteco ah è vero vabbè ci sarà tempo ok ok oh oh non ci credo cosa? a Matti gli puzzano i piedi l'altro giorno odoravano di formaggio scaduto bleh ma come è possibile? questo non è un bel segreto Roby oh 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 beh che romico mio beh non dà fastidio però è un po' vero scusami un attimo no cosa stai facendo? Matti te lo sconsiglio per la tua salute senti non puzza forse un pochino mi lagrimano gli occhi vabbè dai facciamo che forse questo segreto non è proprio sbagliato Dani spiegami una cosa ma dove l'hai vista la ricetta del pollo al nero di seppia? perché ora sono curiosa mi sembra strano come accostamento è buono? nena in realtà devo svelarti un segreto però non dirlo a Roby e a Matti questa ricetta non esiste in realtà ho fatto stare il pollo nel forno troppo tempo e si era bruciato e quindi ho inventato che era un pollo al nero di seppia ma che schifo e poi Roby l'ha mangiato l'ho assaggiato ma non gli è piaciuto più di tanto che schifo però mi raccomando mantieni il segreto acqua in bocca perfetto grazie Nin anche se è strano che me lo abbia chiesto proprio ora questo è su Ninna oh voglio leggerlo voglio leggerlo caro diario Ninna è una mia cara amica ma oggi sono molto arrabbiata con lei come mai? perché si è comprata la maglia uguale alla mia ho detto che era tutto ok ma mi dà fastidissimo Matti è vero loro hanno la stessa maglia questa cosa me la ricordo però non credevo che Dani fosse arrabbiata che ne so Matti probabilmente quando Ninna gliel'ha chiesto lui ne ha detto no no non ci sono problemi ma invece le devo fastidissimo non ci posso credere questa cosa Ninna la deve assolutamente leggere sì 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 così ci divertiamo un pochino Dani sarà in grossissimi guai guarda un po' una foto di piadina ma è bellissima sì è proprio bellissima Ninna Sì Ninna scusami se vi disturbo perché stavate guardando quella foto è piadina è molto bellina ecco piadina esatto proprio piadina ecco guarda dovresti venire un secondo con me perché piadina sta miagolando in modo strano in camera piadina piadina stai bene voglio venire qui no aspetta no no Dani tu devi aspettare qui perché tanto noi torniamo subitissimo ok vai poi ti volevo dire una cosa australopiteco è troppo divertente questa parola piadina no guarda in realtà era solamente una scusa Ninna ecco ti Ninna fidati di me guarda cosa c'è scritto nel diario ah sì questo è il diario segreto di Dani che ho trovato a casa lo sono riuscito ad aprirlo e stiamo leggendo i suoi segreti anch'io ho un diario segreto che è mappol esatto no e vabbè lasciamo stare e guarda questo segreto è su di te quindi devi leggerlo per forza ok caro diario caro diario virgola Ninna è una mia cara amica ma oggi sono molto arrabbiata con lei perché si è comporta no si è comprata la maglia uguale alla mia virgola ho detto che era tutto ok ma mi ha mi ha mentito sì mi ha mentito sì sì ora ne vado a dire quattro no 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 non puoi stiamo scoprendo tantissimi segreti su di lei se adesso tu li vedi e io so che la tua maglia uguale alla mia tira fastidio scopri che non l'ho trovato ah ok ok non fa una piega quindi che cosa dobbiamo fare ora allora due piani sì allora uno scoprire tutti quanti i segreti di Dani sì numero due mettere in imbarazzo Dani con i suoi stessi segreti esatto questo andami qua ok allora questa è bella uffa tutti sanno schioccare le dita tranne me quando me lo chiedono mi imbarazza sempre davvero questa cosa è perfetta per metterla in imbarazzo ma neanche io sono capace ah no sì tu lo stai facendo ah ok sì non è male dai magari possiamo andare insieme ok andiamo dire che tutti oggi si comportano strani nei miei confronti e poi dove sono finiti Ninna Matti Robi ciao Dani che fai? eccovi dove eravate finiti ma niente sto giocando con il mio motopeluche guarda che cosa ho imparato ieri ah sì anch'io lo so fare guarda facciamolo tutti insieme una canzone sì facciamo una canzone insieme di schioccamento di dita una canzone con le dita che schioccano vabbè intanto tutti sappiamo schioccare le dita no? certo ovvio falla anche tu Dani cosa spesi? schiocchi con noi dai ah io sì magari io porto il ritmo che ne dite? no Dani dobbiamo tutti schioccare le dita per fare la canzone ma ma devo proprio Robi voi che dite? sì ovvio obbligatorio guarda dai fallo anche tu spiegati però io non volevo dirvelo però non so farlo guardate non fa niente non so schioccare le dita è molto imbarazzante visto che è semplicissimo aspetta aspetta oh oh si fa così non si fa così dai Dani ma stai scherzando sapete cosa sembra Dani che non sa schioccare le dita? cosa? un australopiteco ti fa troppo rile questa cosa non ha senso no cucinelle c'è qualcosa che non va come fanno Ninna Marti Robi a sapere tutti i miei segreti e soprattutto tutti quelli imbarazzanti che non sa nessuno uffa siete pronti ad un altro segreto? sì lo leggo io vai Ninna non ne mancano tanti a quanto pare quello gialletto quello pure ma quanti sono? sono tantissimi sì leggi questo Ninna dai ok oggi Matti era più carino del solito in che senso? ha riso alle mie battute e che bel sorriso wow un bel sorriso perché ridi alle battute di Dani? perché mi hanno fatto ridere cucinelle guardate sono chiusi qui dietro la stanza questa cosa proprio non mi piace Matti non me la racconta giusta Dani continuo a leggere dai è alto bello e simpatico anche se ha porto e gli puzzano i piedi alto bello e simpatico alto bello e simpatico Matti e beh cosa posso farci io? sono labbiata dai non esagerate ha fatto solo dei complimenti ma quello è il mio diario segreto non ci posso credere ma io l'avevo nascosto ehi quello è il mio diario segreto segreto non si può leggere ah sì? ah sì? ora sappiamo tutti i tuoi segreti sappiamo anche quel segreto esatto Dani quel segreto quale segreto Ninna? ma 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 non siete stupidi scusate sì sì quel segreto dove Dani dice che Matti è alto e bellissimo Esatto, sei per caso innamorata di Matti, Dani Aspetta, avete dimenticato che ho anche un bel sorriso Sei zitto Non è il momento Mamma, ma tutto Ora siete tutti arrabbiati con me? Ho fatto solo un complimento a Matti Non volevo rubarlo alla mia amica Ninna Ah no? Perché hai detto che ride le tue battute Sei felice che abbia un bel sorriso Dici che è simpatico Eh Ninna, digli qualcosa anche tu Non siamo più amiche No, sapete cosa vi dico? Qui devo essere io arrabbiata Perché non si leggono i diari segreti E soprattutto non me lo aspettavo da te Ma l'ha letto Robby per prima Quindi è stata colpa tua Ma, 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 stavo pulendo casa E poi ho trovato questa cosa rossa L'ho aperto ed era super divertente Diceva che tu mi hai mentito diverse volte E ci sono segreti strani come quello sulle melanzane Oppure, questo qui Guarda, io e Robby siamo a dieta Ma l'altro giorno ho mangiato di nascosto la cioccolata E ho dato la colpa a Ninna Per fortuna Robby ci ha creduto Io non mangio cioccolata Sono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica Ma sono di mattina? Esatto, sono solo di mattina Perché sono la mattina? Sì, adesso basta Questo è mio E voi, coccinelle, lo avete un diario segreto E adesso me lo riporto a casa E... Ciao! Ecco, l'avete fatta anche andare via Meno male che ci sono io col mio sorriso Sono arrabbiatissima Coccinelle, sono davvero arrabbiata I diari segreti sono fatti per rimanere segreti E invece Robby lo ha letto e lo ha condiviso anche con Ninna e Matti Giuro che questa volta me la paga Grazie a tutti